Ehi ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magrus, oggi siamo qui sulla mia serie dove in pratica in base alle domande che mi fate qui sotto al video oppure su Instagram e su Facebook io vi rispondo naturalmente parlando della mia vita, vi ricordo naturalmente di avere un po' di pazienza per ciò che riguarda le domande che mi fate ed inoltre non è che posso rispondere a tutte le domande, cioè nel senso, non è che ho vissuto tantissime, ho fatto tantissime cose se mi fate una domanda di un argomento che personalmente non tratta la mia vita, mi risulta un po' difficile riuscire a raccontarvi qualcosa della mia vita e poi personalmente cerco di non seguire un ordine, ossia mi faccio spesso e volentieri anche trasportare dal momento è un modo per raccontare la mia vita, ve l'ho già detto Comunque, detto questo e ho fatto questa piccola precisazione, oggi rispondo alla domanda di Ottavio Vinci che mi chiede, ciao Magnus, diretto è, ciao Magnus, hai mai avuto occasioni importanti? Questa è una bella domanda, infatti quando l'ho letta mi è subito saluta dalla mente due occasioni importanti della mia vita fondamentale quello che vi dico sempre e già ve l'ho detto anche nell'altro video quello di cercare sempre di non mollare mai, che potrebbe sembrare una cosa stupida da dire ma è vero, non mollate mai, cercare di perseverare sempre in quello in cui credete però, perché se non ci credete lasciate perdere detto questo, ho avuto due occasioni importanti della mia vita forse all'inizio e alla fine, cioè ero piccolo ed ero grande la prima occasione della mia vita l'ho avuto intorno a 12 anni, più o meno, 12-13 anni, una roba del genere non mi ricordo, giocando a calcio, io ho sempre giocato a calcio calcio, non calcetto, che è differente ho sempre giocato a calcio, ho sempre giocato difesa, terzino destro fondamentalmente tutto successo nella mia occasione fu quando fui scelto per una selezione passai la prima e passai anche la terza andammo a fare poi una partita importante davanti eravamo scarsissimi secondo me facevamo un partitone tremendo a difesa e poi alla fine riuscimmo a vincere 1-0 sul calcio di rigore perché fecero un fallo in aria al sottoscritto forse fu anche quella la botta di fortuna quella di riuscire normalmente a vincere la gara e di farsi notare proprio in un'occasione del genere non ve lo so dire sinceramente perché comunque ero un po' piccolo molte cose, forse non me le ricordo mi ricordo che però fui poi scelto e a quel punto bisognava decidere perché sarei dovuto andare fuori sarei dovuto andare vicino Firenze fondamentalmente la mia famiglia o forse credo anche che sia più o meno più una mentalità italiana pensa sempre che comunque la cosa importante non voglio dire che sia giusto o sbagliato però pensa che la cosa importante sia lo studio prima studi e poi dopo lo sport lo sport in Italia non viene mai considerato forse anche giustamente perché a parte il calcio gli altri sport lo stato non è che ti aiuta tantissimo io facevo calcio quindi in teoria ci poteva anche stare ma vabbè lasciamo parte mio padre calcio sa giusto che c'è una pala rotonda e basta più mia madre informata sul calcio per farvi capire però mia madre disse sì ok non ci sono problemi però prima studi e poi giochi a calcio le spiegarono naturalmente che se avessi perso quell'occasione difficilmente poi mi avrebbero richiamato era molto difficile che mi avrebbero richiamato cioè ci sarebbero state possibilità quasi pari a zero che comunque avrei studiato mia madre ascoltò tutto e alla fine disse vabbè ok tu comunque rimani qua non fai niente tanto il calcio come lo fai là lo fai anche qua mia madre certe cose non le capiva perché come già vi ho detto fondamentalmente per lei la cosa fondamentale era lo studio e quindi persi quell'occasione perché poi non è che a 11 anni puoi decidere di partire cioè se i tuoi genitori non vogliono non parti anche perché come già vi ho detto mia madre non mi avrebbe fatto partire ma comunque mia madre era più favorevole di mio padre a farmi partire quindi non tenevo proprio speranza tra l'altro poi mio zio che parteggiava per me cercò anche di fargli capire che era un'occasione che magari non diventavo nessuno però era una buona occasione ma mia madre è una persona molto non so come dire perché se vi dicessi che dura è poco è proprio dura cioè mia madre se decide una cosa basta non ci sono proprio cioè niente proprio non sono fotte niente di nessuno niente proprio cioè decise quella cosa anche perché per lei la cosa fondamentale era vabbè ma non tu devi giocare a pallone quindi o giochi là o giochi qua o giochi a Firenze o giochi a Napoli qual è la differenza scusami giochi sempre a pallone e giochi quindi tranquillo giochi anche qua io poi me ne accorsi me ne accorsi di questa cosa perché fondamentalmente poi quando poi non partii più e gli allenatori poi non ti casano più cioè non ero più preso in considerazione infatti lì giocai mi pare un altro ma neanche un altro anno giocai pochissimo è vero che poi a mio padre gli venne un altro infarto e quindi vabbè lasciamo stare però giocai poco fui snobbato completamente mi facevano praticamente capire letteralmente che non ero più il ben accetto per il semplice fatto che spesso mi cambiavano di ruolo giocai anche a porta quindi vabbè non sono manco alto figurandoci come potevo giocare a porta quindi non mi prendevano più in considerazione forse anche giustamente perché loro puntavano su qualcuno da far diventare qualcuno e visto che lo voglio dire per colpa dei miei genitori perché poi però fondamentalmente non sarei partito questa secondo me è stata una grande occasione a cui naturalmente che praticamente non sono potuto non ho potuto accettare perché per questo motivo un'altra occasione invece l'ho avuta dopo laureato personalmente penso che sarebbe stata veramente una grandissima occasione e forse se fosse andato in porto questa cosa oggi non mi troverei assolutamente qui vi dico per quale motivo perché io sono uno di quelli che ha sempre pensato che per cercare di fare determinati lavori c'è bisogno sempre di una spintarella di una buona raccomandazione oltre ad avere tutto un determinato numero di requisiti bisogna sempre avere una raccomandazione una spintarella per certi tipi di lavori in certi posti questa era la mia idea feci la domanda per un'azienda molto importante non vi dico il nome perché meglio non parlare di queste cose insieme a Maroni c'era qualcosa da sciopere però la buttai così a titolo informativo cioè proprio figuriamoci se questi mi chiamano fui chiamato però mi dico la verità anche pur essendo stato chiamato pensai vabbè mi faranno fare la presenza andai a fare il primo colloquio e feci il colloquio tranquillamente mi fecero le domande non è niente mi richiamarono addirittura mi richiamarono e feci anche un altro colloquio mi dissero che mi piacevo che ero intraprendente a loro serviva una persona di questo tipo e che quindi molto probabilmente mi avrebbero fatto fare poi una specie tipo di di test per vedere se avevo giusti requisiti e potevo entrare io ancora non contento perché sempre la mentalità la mia mentalità che poi non è detto che sia così perché secondo me in certi posti ci vuole sempre la raccomandazione dissi vabbè secondo me non mi chiameranno e se mi chiameranno evidentemente è un tipo di test che devono fare a un certo numero di persone e poi passerà il raccomandato feci il test convinto di averlo anche sbagliato perché alcune domande erano specifiche altre domande erano un po' a ragionamento io feci tutto un determinato tipo di ragionamento e così fui chiamato fui anche chiamato mi dissero che andavo bene che le idee che esprimevano in un certo senso fu bella una cosa che mi disse uno di quelli che mi disse una cosa molto strana mi disse guarda alcune volte parli talmente tanto e dici certe cose che non si capisce niente però mi affascini secondo me sei uno finto uno dalle mie parti si dice nufiglie gander cioè una persona sveglia ma tra le righe a me piacciono queste persone perché sono persone che hanno molta fantasia e non ti dico mi disse non ti dico che salirai a bordo che vieni assunto ma ci possiamo anche dare la mano sicuramente sarai assunto tanto dobbiamo fare le visite mediche e lì fui fregato ragazzi lì fui fregato andai a fare la visita medica andai a fare la visita medica per gli occhi e fui fregato perché praticamente essendo un'azienda importante questa azienda importante non poteva forse dico anche giustamente perché poi si sa a volte magari uno va per vie legali e quindi a loro non conviene una cosa del genere la stessa persona che mi disse questa cosa mi disse guarda purtroppo noi abbiamo scelto cinque persone di queste cinque persone ne avremmo preso tre quindi c'erano due riserve tu rientravi in queste tre persone il tuo problema è che hai questo problema agli occhi il medico vabbè il medico se ne accorse ma fondamentalmente mi fece la domanda e mi disse tu hai chiarato con e mi dissi sì non potevo mentire per il semplice fatto che a me si vede quindi c'è poco da da mentire e il medico me lo disse subito disse non ti assumano è sicuro che non ti assumano non ti voglio non ti voglio scoraggiare ma difficilmente un'azienda prende una persona che ha un'azienda importante prende una persona che ha una malattia degenerativa una malattia degenerativa ve l'ho già spiegato che cosa è in pratica una malattia che man mano che passa il tempo del genere è vero che sono stato provato e quindi in teoria meccanicamente dovrei aver risolto questo problema però loro non si assumono responsabilità perché magari pensano tu adesso stai bene vedi bene fra 15 anni non vedi bene ci denunci per questa cosa e che facciamo quindi non si può fare ma non fu fu una cosa molto veloce non ti prendono basta tanto è vero che nel giro io lo feci la mattina nel giro del pomeriggio il signore che tra l'altro fu anche molto molto onesto diciamo e sincero con me mi dispiace per te ma so bene che magari per te sarebbe stata una grande occasione ma purtroppo non ti possiamo prendere abbiamo già le riserve quindi non è che posso parlare con altri per cercare di farti vedere perché non ti prenderanno mai è molto semplice da decidere quindi secondo me anche quella fu una occasione a cui io non dipendeva da me fondamentalmente però secondo me fa parte di una grande occasione che naturalmente non ho potuto cogliere speriamo naturalmente di dare il risposto appieno a questa domanda scrivetevi sotto nei commenti che cosa ne pensate perché vostro parere è importante anche perché questo mi fa capire anche che la vita non funziona sempre per tutti in un certo modo per molte altre persone può anche andare diversamente magari per esempio per uno di voi le cose sarebbero andate diversamente e me lo auguro sinceramente ci rimasi parecchio male ma proprio tanto tanto male ci vediamo a prossimo video bye